ciao a tutti i guerrieri e guerrieri saipro io sono Feltinando e sono un gran fan di Sailor Moon doveva esserci in questo video giovedì 19 luglio 2018 una live sul canale ma avendo la connessione dati e non potendo accedere a internet con il wifi la connessione della wind mi blocca è uscito un pezzo di live proprio poco 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 ho provato a fare una seconda live giù nel parco vedete di solito dei vlog che ho portato anche a Siria ma purtroppo si blocca durante la live si blocca e vi volevo solo avvertire che domani la TheFanBox mi spedisce a casa quella di luglio quindi non so se questo video questa unboxing viene messo domani o la prossima settimana già ho registrato i video per sabato e domenica e lunedì lunedì ora non so quando ritornerò se lo caricherò quel giorno lì o martedì direttamente bene io lo voglio fare molto molto breve perché poi giustamente adesso voglio chiedervi quindi che vi volevo dire più mi dispiace che nella live poi non c'è neanche nessuno per usare vabbè speriamo di fare una live quando la wind ci darà il permesso cioè mi darà il permesso vabbè questo è lì da sabato da instagram a facebook tutti i miei social network i canali dei ragazzi sono team la famosa che c'è una ma che c'è una chiaraccio se non un fan si è affidata da amazon il mio secondo canale di random twitter boys siamo arrivati a 600 quanti iscritti una cosa che non mi aspettavo vi ringrazio ora mancano meno 10 ai 700 iscritti quindi ora non so se in quasi tre anni sono arrivato il video è molto breve perché appunto solo l'intro è qui ciao ciao ragazzi ciao 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 ciao